È una categoria ampiamente utilizzata dagli economisti classici e che subisce una torsione critica a partire dall'utilizzo che Marx ne fa nella critica dell'economia politica. Mi dite solo se va tutto bene, così non vado... Si sente? Perfetto, si sente, ma pure tranquilla. Scusatemi. Dicevo appunto una categoria formulata nel Settecento... Ok, è una torsione critica. Scusate se mi interrompo, ma abbiamo un po' di problemi con la registrazione. Vi chiederei di lasciare il video solo a chi sta parlando, perché sta saltando sempre e forse la banda non regge anche la registrazione. Scusate. Quindi io lo lascio. Sì, 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 sì. Ok, dicevo Marx, dà una torsione critica a questa categoria. La tesi di Marx, penso ad esempio al capitolo sesto inedito del primo libro del Capitale, che è un capitolo in cui Marx si concentra proprio sulla questione, la sua tesi semplice quanto complessa è che il sistema capitalistico, per sopravvivere, deve immediatamente e continuamente riprodursi in quanto tale, cioè riprodurre i suoi membri, la forza lavoro, e riprodurre i rapporti sociali che lo caratterizzano. Della riproduzione sociale nell'analisi marxiana del capitalismo è stato detto che si tratti di una sorta di anello mancante, cioè di un nesso individuato ma non veramente approfondito. Marx infatti pur dichiarando che la vita produttiva è la vita che genera la vita, ad esempio nei manoscritti del 44, e quindi riconoscendo una centralità anche economica al processo della riproduzione, tende però a confidare in quello che è stato definito da Leopoldina Fortunati, una teorica femminista marxista italiana, come la forza naturale del lavoro sociale. Cioè Marx tende a naturalizzare il processo della riproduzione e a non integrarlo appieno nell'analisi del capitalismo. Ci sono una serie di ragioni storiche e teoriche per spiegare la scarsa attenzione che Marx riserva. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. È come se si chiedesse di investire la ricchezza prodotta nell'aumentare gli standard della riproduzione sociale, cioè nell'aumentare la qualità della vita delle persone sostanzialmente. In questo contesto si inserisce anche l'analisi femminista della riproduzione sociale, scusate, in termini di lavoro riproduttivo o lavoro di riproduzione. Anziché guardare una disincarnata e astratta riproduzione societale, come l'hanno definita Brenner e Laslett in un articolo classico, cioè una generale astratta riproduzione dell'intera società, le femministe marxiste degli anni settanta, in particolare le teoriche e attiviste legate all'esperienza del collettivo internazionale femminista, prima e poi ai comitati per il salario lavoro domestico, fanno decantare dentro corpi, relazioni, istituzioni, l'insieme di attività che quotidianamente riproducono la società. Le femministe marxiste degli anni settanta individuano, infatti nel lavoro non pagato delle donne, il punto di equilibrio del capitalismo fordista, è una fonte nascosta di valore per il capitale. Questa sarà poi questa capacità del lavoro di riproduttivo di produrre valore, uno dei punti poi discussi anche nella teoria più contemporanea della riproduzione sociale, ma lo metto un attimo da parte, diciamo, è una carrellata più genealogica quella che sto facendo. Dicevo, per le femministe marxiste degli anni settanta, in particolare Maria Rosa Dallacosta, Silvia Federici, la stessa Leopoldina Fortunati che ho già nominato, il lavoro di riproduzione produce un valore d'uso per il valore, come è stato definito, c'è un insieme di attività necessarie alla riproduzione della forza lavoro, e quindi al processo della valorizzazione. Quel processo di riproduzione che Marx aveva definito come immediato, risultava invece fortemente mediato da un tipo di lavoro specifico, svolto dalle donne, completamente desocializzato e devalorizzato. Il concetto di lavoro di riproduzione dunque non si riferiva soltanto a un insieme di, diciamo, attività, attitudini necessarie al mantenimento e alla riproduzione della vita, ma individuava in modo più specifico una serie di attività organizzate dal capitalismo, seppure fuori dalla sfera del mercato, almeno nella sua, diciamo, versione fordista, in cui il lavoro di riproduzione coincide tendenzialmente con il lavoro domestico della casalinga, una serie di attività organizzate che insieme definiscono un lavoro socialmente necessario a raggiungere livelli di cura standardizzati, anche questi, definiti storicamente. Non si tratta cioè soltanto di riprodurre la vita, ma di riprodurre la vita come forza lavoro dentro una società capitalistica. Secondo quanto scrive, ad esempio, Titi Vattaciaria, una delle principali esponenti della cosiddetta social reproduction theory contemporanea, la riproduzione sociale individua una rete complessa di processi e relazioni che producono le condizioni di esistenza dei lavoratori. In tal modo non individua solo una serie di ambiti specifici di analisi, di settori di analisi, quindi settori, diciamo, della cura più o meno formalmente organizzati, più o meno privatizzati, ma soprattutto mette al centro dell'analisi la convinzione che il lavoro umano sia il cuore della creazione e della riproduzione della società come intero. Se teniamo presente, diciamo, quanto questi elementi, ci rendiamo conto che la categoria della riproduzione ci indirizza verso due problematiche. Questo è forse anche ciò che la rende a volte difficile da afferrare, o almeno capita spesso che le persone rimproverino questa categoria di essere, come dire, troppo ampia, generica, a volte difficile da afferrare. Dicevo, la categoria ci indirizza verso due problematiche. Da un lato la questione della riproduzione della vita dentro il capitalismo, che a sua volta individua diversi livelli di analisi, tutti e tre importanti. anzitutto il livello della riproduzione biologica degli esseri umani, che di naturale non ha niente, vuole dire anche questo fortemente socializzato e sociale. Pensiamo banalmente a tutta la questione delle analisi di Melinda Cooper sul biolavoro globale, ma anche senza arrivare a quello, a tutta la struttura sociale che accompagna proprio il concepimento, il parto, la crescita dei figli, eccetera. Quindi il primo livello individuato è questo della riproduzione biologica. Poi c'è un secondo livello, che è quello della riproduzione dei soggetti in quanto forza lavoro. Cioè la riproduzione sociale include un insieme di attività che sono in grado di ripristinare la forza lavoro, quindi di ripristinare le energie da mettere al lavoro, ma anche e soprattutto di generare, ripristinare, quelle capacità incorporate all'essere umano, come le chiama Lisbogel, che sono necessarie alla messa al lavoro. Quindi c'è riproduzione biologica, riproduzione dei soggetti in quanto forza lavoro, e poi c'è un terzo livello che indica tutte le attività che consentono il mantenimento delle persone non abili ai lavori. Questo grande rimosso, diciamo, nelle autorappresentazioni del capitalismo in cui sembra che tutti gli individui siano un po' delle monadi autonomi. Invece la dimensione, la categoria della riproduzione sociale riconosce anche tutta questa infrastruttura che tiene letteralmente in vita le persone non abili al lavoro. Dunque, dicevo, la categoria individua due problematiche. La prima è questa, riproduzione della vita con questi tre livelli che ho appena detto, riproduzione biologica, riproduzione della forza lavoro, mantenimento delle persone non autonome. La categoria della riproduzione, però, individua anche un'altra problematica, connessa alla prima, che è la necessità di riconoscere a tutti i livelli dell'organizzazione complessiva del capitalismo l'istanza della riproduzione. Cioè, individua una problematica, una specie di trasversalità all'organizzazione capitalistica. Secondo Bidenson e Luxton, ad esempio, due autrici ricercatrici femministe, il concetto della riproduzione sociale offre una base per capire come diverse istituzioni, lo Stato, il mercato, le cosiddette istituzioni della società civile, interagiscono e bilanciano il potere, in modo che sia effettuato il lavoro necessario alla produzione quotidiana e generazionale delle persone e della forza lavoro. Da questo punto di vista, la riproduzione sociale può essere pensata come una matrice dell'organizzazione capitalistica complessiva. Per questo motivo, infatti, la categoria è posta alle basi delle cosiddette teorie unitarie del capitalismo, cioè teorie che tengono insieme i processi dello sfruttamento e le forme dell'oppressione. Bidenson e Luxton, utilizzo la loro formulazione, giusto perché le ho già citate, parlano ad esempio di un sistema integrato di produzione o riproduzione, o anche di modo espanso di produzione, che tiene in considerazione la produzione delle merci e quella delle persone dentro uno stesso sistema. Dunque, sul terreno della riproduzione, si possono condurre due operazioni analitiche. Da un lato, espandere il concetto della produzione integrando la riproduzione come lavoro, cioè come dimensione sfruttata e organizzata del capitalismo, dentro e fuori i confini dell'economia formale. Si può individuare un settore, tra virgolette, anche se un po' riduttivo. Dall'altro lato, però, si può riconoscere nell'organizzazione della riproduzione una matrice complessiva. Quando Romano Alquati, un autore, un operaista minore, ma che ha questa categoria dedicato molto spazio, parla di ribaltamento sussuntivo, cioè di un rovesciamento, a proposito del rapporto tra produzione e riproduzione, cerca di mettere a fuoco il secondo passaggio, quest'idea che la riproduzione possa essere matrice dell'organizzazione complessiva. Una questione che, tra l'altro, anche Federici ha messo a tema, soprattutto nell'analisi del rapporto tra riproduzione sociale e neoliberalismo. quindi, dicevo, ribalta un modo in cui, un'analisi del modo in cui le necessità riproduttive sotto il capitalismo trasformano l'architettura stessa della produzione e dei processi di accumulazione. Questo mi sembra l'aspetto, come dire, che emerge in modo così forte in questa fase che stiamo vivendo. Pensiamo, ad esempio, all'infrastruttura logistica della riproduzione della società confinata, come è stata analizzata, ad esempio, in Francia, dal gruppo di indagine logistica. Cioè, pensiamo a un'espansione o trasformazione di tutto quel settore a partire dalla ridefinizione di esigenze riproduttive. Oppure pensiamo alla lavorizzazione, passatemi questo termine brutto, di molte attività attraverso la digitalizzazione, quello che dicevo anche in apertura. Sono esempi clamorosi, ma che ci fanno vedere quanta attenzione dobbiamo fare alla riorganizzazione delle catene del valore, tenendo presente l'interazione tra produzione e riproduzione. Dunque, per chiudere, passare la parola a Cinzia, che forse potrà approfondire tutti questi aspetti e venire a tirare un po' anche le fila delle questioni. Se in termini molto generali il neoliberalismo è stato pensato come un processo di ristrutturazione della sfera della riproduzione, contrazione del welfare, nuovi processi estrattivi, regimi differenziali di riproduzione legati alla cosiddetta moltiplicazione del lavoro e così via, cioè tutte dinamiche che abbiamo messo a tema attraverso l'analisi della ristrutturazione della sfera della riproduzione, o meglio che sono state messe a tema, negli ultimi due mesi possiamo osservare che le contraddizioni social-riproduttive del capitalismo finanziarizzato, come le chiamano Nancy Fraser, sono diventate potenzialmente esplosive. La contraddizione tra logica del profitto e logica della riproduzione della vita ha raggiunto un punto di massima tensione, non solo perché è chiaro che il nesso tra crisi ecologica, agricoltura intensiva, sviluppo di epidemia, quella guerra tra agroindustria e salute pubblica di cui parla Rob Wallace, ma anche perché su un piano micrologico e quotidiano l'uscita dalla crisi sembra giocarsi o si giocherà probabilmente in gran parte sul terreno della riproduzione, cioè sulla definizione di cosa è prioritario e per chi e di come saranno organizzate socialmente queste priorità. Mi fermerei qui per non prendere troppo spazio, penso di aver usato i 20 minuti abbondanti e per lasciare la parola a Cinzia. Grazie mille. Ok, riproviamo. Adesso? Adesso va bene. Ok, allora intanto grazie per l'invito, per essere qui e grazie a Simona per questo bellissimo intervento che tra l'altro è stato così ricco che mi permette probabilmente, almeno spero di essere molto breve invece, così abbiamo più tempo per la discussione. Io vorrei partire proprio da quello che diceva Simona rispetto all'emergenza della contraddizione tra produzione e riproduzione sociale, in particolar modo tra produzione e riproduzione della vita e corsa verso l'accumulazione di plusvalore. e vorrei partire da questa questione in particolar modo utilizzando un po' un'immagine che a mio avviso potrebbe essere presa come un simbolo un po' della fase che stiamo attraversando. E l'immagine, appunto, l'immagine che di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, dei infermiere statunitensi che si fronteggiavano con manifestanti dell'estrema destra americana, a volte armati di tutto punto e membri di piccole milizie di suprematiste bianche, attorno alla questione della riapertura immediata della produzione e della fine del lockdown. In questo scontro, cioè nel senso in questa immagine tra la calma per certi versi e fermezza delle infermiere americane che sono in questo momento in prima linea nella lotta contro la pandemia e i manifestanti di estrema destra, per certi versi si esprime un po' uno degli assi centrali di scontro, di classe in questo momento. Ora faccio un po' un passo indietro rispetto a questa immagine per riprendere un po' quello che ha detto anche Simona all'inizio del suo intervento, cioè che uno delle, pur in una situazione diciamo drammatica che è quella in cui ci troviamo a vivere oggi, uno degli elementi comunque interessanti o che comunque possono aprire nuove potenzialità politiche è il fatto che la pandemia per certi versi ha reso i rapporti sociali su cui si basa la riproduzione della società nel suo insieme e quindi rapporti di classe ma anche quelli di genere, razziali e di etnicità ha reso questi rapporti sostanzialmente se non trasparenti certamente molto più visibili. in altri termini la complessa rete di rapporti sociali di sfruttamento e di oppressione che consente la riproduzione quotidiana della società capitalistica sta in qualche modo emergendo di fronte agli occhi di tutti mentre in condizioni di normalità tende a essere sostanzialmente naturalizzata e dunque presa per scontato. Faccio riferimento qui in particolar modo da alcuni elementi che a mio avviso sono entrati a far parte del grande dibattito diciamo del dibattito a livello a livello un po' di massa il primo elemento è quello citato anche da Simone cioè la centralità del cosiddetto lavoro essenziale e quindi di categorie di lavoratori e in particolar modo di lavoratrici impegnati in lavoro per lo più manuale da cui dipende la riproduzione materiale della società e dipende dalla riproduzione materiale degli individui e delle persone non soltanto il lavoro essenziale diciamo il cosiddetto lavoro essenziale quello che viene definito come lavoro essenziale sta avendo un ruolo da protagonista in qualsiasi discussione rispetto alla alla gestione della pandemia ma quello che sta emergendo è anche per certi versi l'irrazionalità di una certa divisione del lavoro per la quale settori lavorativi che sono appunto assolutamente determinanti nel consentire la nostra la nostra riproduzione sono gli stessi settori lavorativi che nel corso di decenni sono stati soggetti a svalutazione sociale e culturale peggioramento delle condizioni di lavoro introduzione di forme di super sfruttamento una delle battute diciamo che avevo fatto all'inizio di questa pandemia è che se c'era una cosa che la pandemia stava facendo emergere in maniera chiara è che in un contesto di crisi pandemica probabilmente possiamo far meno di filosofi e filosofe si può discutere se la filosofia sia necessaria per la buona vita ma certamente non è necessaria per la sopravvivenza al contrario quello che stava emergendo è che categorie di donne lavoratrici normalmente del tutto invisibilizzate stavano emergendo precisamente come quelle lavoratrici che sostanzialmente ci tengono in vita ci permettono e ci consentono di vivere il secondo elemento diciamo di maggiore trasparenza ha a che vedere con l'interdipendenza materiale a livello planetario tra società ma esperita anche a livello individuale e cioè la centralità delle catene globali del valore e delle catene globali della logistica la loro ridefinizione in questo momento e diciamo la differenza rispetto a un periodo non eccezionale come quello che viviamo oggi è che la questione delle catene globali del valore sta appunto diventando una questione che viene esperita direttamente nel vissuto quotidiano direttamente anche a livello semplicemente individuale dal non riuscire a trovare la carta igienica nel supermercato alla situazione ad esempio drammatica in paesi latinoamericani come l'argentina dove la difficoltà appunto all'interno delle catene del rifornimento eccetera sta producendo una situazione di mancato accesso a beni di prima necessità come il cibo terzo elemento la questione del lavoro migrante ultimamente proprio in questi giorni stavo leggendo sul New York Times ripetuti articoli su questa questione ad esempio la crisi che i paesi del del golfo si stanno trovando ad affrontare in quanto grandissimi importatori di lavoro migrante in condizioni peraltro di semischiavitù o di servilità il problema statunitense dell'agricoltura all'interno degli Stati Uniti e dunque il problema dell'importazione di lavoro migrante in particolare dal Messico e dall'America centrale e anche io credo il dibattito ad esempio italiano e lo scontro italiano di questi giorni rispetto ad esempio alla questione della regolarizzazione provvisoria delle delle badanti in altri termini quello che sta emergendo sostanzialmente è la centralità del lavoro migrante e dei processi migratori dal punto di vista della riproduzione stessa della società in particolar modo della riproduzione della vita in particolar modo in quei settori che sono appunto considerati come settori essenziali o settori della riproduzione sociale e infine l'ultimo elemento chiaramente quello che sta emergendo secondo me che sta diventando molto più visibile più tangibile più concreto nell'esperienza delle persone è appunto l'unità tra produzione e riproduzione sociale su cui il movimento femminista ha insistito moltissimo negli ultimi negli ultimi anni che in questa in queste circostanze sta diventando appunto questione tangibile per la maggior parte delle popolazioni che sono affette dalla pandemia io credo che sia in questo contesto cioè in un contesto di quella che potremmo definire per certi termini maggiore trasparenza dei rapporti di classe dei rapporti sociali alla base della riproduzione delle società capitalistiche all'interno di questo contesto che dobbiamo collocare e leggere e analizzare i processi di lotta e potenziali processi di soggettivazione politica che si stanno dando in condizioni ovviamente estremamente difficili visto le politiche di quarantena che rendono buona parte degli strumenti di lotta a disposizione non tradizionali non praticabili e in condizioni che per certi versi ci invitano anche a effettuare una serie di sperimentazioni o quantomeno iniziare a pensare a riflettere seriamente rispetto a come organizzare e quali processi di soggettivazione politica si possono dare all'interno di un contesto ibrido e sempre più ibrido come quell'attuale in cui appunto parte della nostra vita per certi versi ormai si svolge online mentre al tempo stesso in realtà buona parte della vita continua a svolgersi al di fuori dei muri domestici continua a svolgersi nei luoghi di lavoro continua a svolgersi negli ospedali e così via dicendo come dunque venere insieme questi due questi due aspetti e come organizzare all'interno di questo contesto uno dei motivi per cui ho insistito un po' sulla questione della trasparenza è perché diciamo per dare forse un elemento di ottimismo anche se non è esattamente ottimismo un elemento diciamo di ottimismo è all'interno di un periodo francamente buio che sarà con noi ancora temo per un bel po' e cioè in questo contesto pandemico è un contesto ovviamente di crisi che potremmo definire organica che mette insieme crisi politica crisi economica crisi della riproduzione sociale è una crisi sanitaria ed ecologica è dunque un momento di crisi ma come qualsiasi momento di crisi è anche un momento che apre alcune possibilità alcune potenzialità rispetto a percorsi di lotto e di soggettivazione ovviamente si tratta esclusivamente di possibilità nel senso che non c'è nessun automatismo tra la crisi e la capacità di risposta ma ritengo che sia urgente e anche interessante provare diciamo ad approcciare la questione della pandemia precisamente dal punto di vista di quali possono essere diciamo gli elementi di frattura i crinali che si possono diciamo gli elementi di frattura che si possono provare ad allargare ora da questo punto di vista guardando anche con la centralità della lente della riproduzione sociale e quello che è successo nelle ultime nelle scorse settimane in primo luogo abbiamo avuto un'ondata diciamo di scioperi o proteste attorno ai posti ai luoghi di lavoro che hanno messo insieme per certi versi produzione e riproduzione sociale e cioè che hanno visto in prima linea da un lato ad esempio le operatrici del settore sanitario le infermiene americane ad esempio le loro proteste di denuncia rispetto alla mancanza di adeguate protezioni le proteste per domandare ulteriori finanziamenti alla sanità colpita dalle politiche di austerità negli scorsi decenni eccetera quindi da un lato appunto lavoratrici del settore della riproduzione sociale sciopere all'interno della logistica e quindi interruzioni delle catene della logistica e anche della catena della grande distribuzione alimentare e scioperi diciamo in luoghi di lavoro per certi versi più tradizionali dal punto di vista della storia del movimento operaio e cioè all'interno dei fabbriche per richiedere appunto o la chiusura o l'adozione di misure di sicurezza o nei macelli diciamo nei mattatoi che stanno peraltro e nelle fabbriche di produzione di carne che stanno peraltro diventando quantomeno negli Stati Uniti uno dei luoghi maggiori di diffusione del virus insieme alle case di cura quindi da un lato scioperi attorno ai luoghi di lavoro che mettono insieme luoghi di lavoro legati alla riproduzione sociale e luoghi più tradizionalmente legati alla produzione un secondo elemento diciamo un secondo fronte di lotta che credo che credo si sia aperto in questi in queste ultime settimane ha a che vedere con le esperienze di mutuo soccorso e di auto organizzazione del basso della riproduzione sociale che in alcuni paesi come ad esempio l'Argentina che citavo prima è riuscito ad andare bene al di là del mero gesto simbolico e cioè del mero accenno a una possibile riorganizzazione dal basso e democratica partecipativa di settori della riproduzione sociale nel senso che in realtà in Argentina ad esempio l'auto organizzazione quantomeno dal basso dell'accesso al cibo ha una dimensione di massa e sta sostanzialmente permettendo a interi settori della popolazione di avere accesso a beni di necessità primaria ai quali altrimenti non avrebbero alcun accesso quindi da questo punto di vista un settore interessante anche da esplorare in termini di inchiesta sarebbe appunto quello della proliferazione di esperienze di mutuo soccorso e di auto organizzazione della riproduzione sociale un terzo elemento che ha sempre a che vedere con riproduzione sociale riproduzione della vita è il fenomeno degli scioperi degli affitti che in particolar modo negli Stati Uniti sta prendendo piedi in una serie di città attraverso appunto la auto organizzazione online e dal basso di comitati di inquilini per l'autoriduzione degli affitti o contro contro gli sfratti e infine un ulteriore settore diciamo fronte di scontro a che vedere con un confronto direttamente con lo Stato al quale è necessario comunque chiedere delle cose dalla questione del finanziamento pubblico alla sanità alla questione del reddito di quarantena e così via dicendo metto in evidenza queste lotte perché non per concludere su una nota polemica ma avendo seguito un po' il dibattito italiano chiaramente da lontano diciamo dall'altra parte dell'oceano e quindi probabilmente mi sono persa anche alcune sfumature una delle mie frustrazioni rispetto almeno parte del dibattito italiano è che a fronte di una situazione che ha non soltanto sta aprendo alcune possibilità politiche e sta aprendo alcune possibilità di soggettivazione politica attraverso la lotta e a fronte di una situazione che sta rendendo diciamo più visibili più tangibili più concreti i rapporti sociali impersonali che governano la riproduzione della società a fronte dunque di un momento diciamo storico di questa natura la mia paura sia stata sia è che diciamo ci sia stata una sorta di spostamento almeno parziale del dibattito sulla sulla questione dell'opposizione o della ribellione o della disobbedienza rispetto a uno stato di eccezione concepito in termini del tutto astratti che francamente credo non 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 soltanto non corrisponda un po' alla non ci dia un'analisi inutile della 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 situazione attuale ma non ci permette nemmeno di individuare una serie di elementi a mio avviso interessantissimi alcuni preoccupanti altri promettenti di riconfigurazione dei rapporti sociali del modo di funzionamento delle società capitalistiche che si stanno dando oggi e alcuni elementi appunto di quantomeno embrionali di soggettivazione politica su cui sarebbe in realtà possibile lavorare da questo punto di vista e concludo qui credo che anche alla luce di quello che ha detto Simona meglio di me nel suo intervento iniziale la lente della riproduzione sociale ci permette io penso di lente della riproduzione sociale che appunto include anche una comprensione del rapporto inscindibile fra produzione e riproduzione ci permette invece appunto di analizzare con maggiore attenzione questi processi questi elementi di trasformazione che si stanno dando in maniera diversa in varie società e quindi ci permette anche di provare aprire una riflessione rispetto a come intervenire all'interno di questi processi e finisco qui grazie mille grazie mille per i due interventi grazie Simone grazie Cinzia e io direi adesso di cominciare subito con le domande visto che siamo abbastanza avanti col tempo quindi aperto il dibattito se qualcuno vuole fare una domanda magari vado io innanzitutto volevo ringraziarvi non è piageria sono state davvero domande interventi relazioni molto interessanti e anche come dire che aprono una serie di scenari di riflessione la domanda che volevo fare a entrambe sostanzialmente è un po' questa partirei da quanto diceva Cinzia su comunque come interpretiamo in qualche modo il periodo che stiamo vivendo per cui pur nella sua evidente drammaticità anche a me pare che in qualche modo apra uno spazio di possibilità tutto sommato inedito per quantomeno se guardiamo diciamo così ai primi anni del nuovo millennio in questo senso mi pare che la condizione in qualche modo pandemica che stiamo vivendo ci come dire stia aprendo alcune ipotesi politiche all'interno delle quali appunto il tema della riproduzione sociale si può porre come come un'asse centrale per lo sviluppo di lotte di conflitti e per una nuova configurazione in qualche modo dei conflitti di classe e di come questi si declinano dentro le diagonali di genere e razza la domanda che volevo fare a questo punto di vista riprendendo un po' alcune come dire pillole se vogliamo dell'intervento di simona provavo a articolare con una categoria se vogliamo di alquati che ragiona in termini di riproduzione endogena della classe e riproduzione esogena quindi dette in maniera semplificata a un lato la riproduzione che ci riproduce in quanto forza lavoro e invece un tipo di riproduzione che in qualche modo ci riproduce per usare una categoria dell'ecologia politica come vivente quello che vi domando mi rendo conto che una domanda è estremamente ampia ma se questa distinzione in qualche modo tra una riproduzione endogena e una riproduzione esogena quindi una riproduzione per il capitale e invece un tipo di riproduzione in qualche modo per la classe o per il conflitto di classe se vogliamo mi chiedevo se questo tipo di distinzione può aprire un ragionamento anche sulle lotte provo a declinarle in maniera più semplice e concludo mi pare che in qualche modo si stia aprendo uno spazio anche di pratica che in qualche modo contiene una grossa ambivalenza quindi da un lato c'è se vogliamo il rischio che tutte le pratiche di lotta di conflitto di mobilitazione di organizzazione che si stanno dando rischino di supplire se vogliamo una mancanza dello status rischino di supplire a dove il capitale si ritrae appunto nel produrre nel riprodurre la vita e che però e che quindi se vogliamo queste pratiche di riproduzione diventino assistenzialismo e quindi una stampella se vogliamo per la riproduzione capitalistica ma che al contempo questo tipo di pratiche possono invece orientarsi dentro un altro dentro un altro orizzonte quindi se questo tipo di distinzione può avere un senso magari mi dite che non ce l'ha è felicissimo come dire anche di ascoltare una critica in questo senso ma se invece questo tipo di riflessione può avere senso gli chiederei magari di provare a riprenderla e approfondirla perché appunto al di là in qualche modo di un essenzialismo che a mio avviso può essere problematico anche nel discorso femministe degli ultimi anni su il pensare la donna ripeto essenzializzata naturalizzata come portatrice di per sé di riproduzione della vita però sicuramente il movimento femministe degli ultimi anni invece su questa direzione come dire ha dato molto ha contribuito molto a pensare a ripensare un'ipotesi in qualche modo di liberazione oggi ecco dentro questo schema scusate il ministro sono stato un po' confuso però vi chiederei un po' di riflessioni su ripeto questa distinzione riproduzione endogena riproduzione esogena quali possibilità di lotte di conflitti di organizzazione si stanno aprendo in due ore e si possono aprire in un orizzonte più ampio grazie ancora per le relazioni e passo alle altre domande vogliamo rispondere subito o raccogliere un po' di domande come volete vediamo magari se c'è una domanda che arriva subito se no potete anche se preferite potete anche rispondere subito mi sentite sì no prima di tutto grazie per gli interventi che ho apprezzato molto non lo dico in maniera retorica insomma mi è stato molto piacere ascoltarli e no volevo condividere solo un'impressione ecco cioè mi sembra un po' che negli ultimi anni il tema della riproduzione sociale sia stato tra virgolette appannaggio comunque sia stato un tipo di riflessione su cui ha battuto molto il movimento femminista per diverse ragioni sia per una condizione appunto di lotta cioè di emancipazione di una serie di soggetti sia per una condizione di questo di rassoggettamento ad una serie di processi dispositivi che comunque sulla base del del genere scaricavano poi sulla donna per mettere questa definizione generica alcune funzioni della riproduzione sociale o comunque una serie di attività lavorative non pienamente riconosciute o parzialmente riconosciute come tali ecco mi sembra che invece un po' quello che veniva detto sul fatto che il tema della riproduzione sociale diventa anche un punto di vista organico sulle trasformazioni in corso quindi in grado di restituire poi sia un po' la totalità dei processi che stanno avvenendo ma anche poi le potenzialità delle fratture che si aprono ecco questo poi pone anche come posso dire una possessibilità di allargamento di ridefinizione di quel campo dei soggetti che attorno alla riproduzione sociale esercitano poi conflitto e anche emancipazione cioè detto in un'altra maniera forse non so provo a dire in un po' più provocatoria non è più per esempio il movimento femminista o una di meno è solamente che battono sul tema della riproduzione diventa una questione della società intera ecco quella della riproduzione sociale rispondiamo a queste due domande sì direi di sì se non ci sono sono già due domande belle e beh sì Simona vuoi andare prima tu o vuoi che vada io prima vai vai Cinzia vai pure ok allora ma sulla questione riproduzione endogene esogena secondo me c'è un po' un rischio nel senso allora riparto condivido totalmente con Nicolò la preoccupazione rispetto al rischio della trasformazione di forme di mutuo soccorso autorganizzazione dal basso della riproduzione sociale in forme sostanzialmente di assistenzialismo e assistenzialismo per lo più depoliticizzato che comunque non riesce a produrre processi o a incentivare processi di soggettivazione politica io credo che questo sia fondamentalmente il problema centrale quando si parla di di auto-organizzazione della riproduzione sociale detto questo non so fino a che punto sia utile pensare in termini di contrasto o opposizione fra riproduzione endogena e riproduzione esogena per il semplice fatto che non ritengo sia possibile una riproduzione esogena in altri termini la riproduzione è ovviamente un processo all'interno del quale riproduzione della vita e riproduzione di determinati rapporti sociali e riproduzione di determinate forme di soggettività sono ovviamente strettamente collegati l'uno con l'altro da questo punto di vista personalmente diciamo le due categorie che mi aiutano a pensare un po' a come si aprono diciamo potenzialità di soggettivazione rivoluzionaria alternative eccetera eccetera i due concetti che preferisco utilizzarli sono quelli di soggezione e assoggettamento il motivo per cui preferisco utilizzarli è che soggezione e assoggettamento e cioè tra l'altro scusate gli inglesismi probabilmente non si dice soggezione in italiano ma si dice subjection in inglese assoggettazione forse soggettivazione e assoggettamento ok perché i due diciamo i due processi per cui l'assoggettamento è diciamo la produzione di soggettività sostanzialmente dall'alto diciamo o attraverso i rapporti sociali impersonali di potere che governano vari aspetti della società e processi di soggettivazione in cui invece si producono degli elementi di autonomia i due processi in realtà non sono processi che sono separabili o che avvengono in due in due sfere della vita separato o che sono due processi che sono strettamente interconnessi nel senso si produce soggettivazione all'interno del all'interno e contro e in opposizione allo soggettamento quindi da questo punto di vista personalmente sono un po' scettiche rispetto alla possibilità di una riproduzione diciamo per per la lotta di classe che venga pensata diciamo come separata per certi versi rispetto a i rapporti sociali impersonali che ci costituiscono che ci producono e ci riproducono per tornare alla questione della quindi della diciamo di come si fa in modo che la diciamo l'auto organizzazione dal basso della riproduzione sociale non si traduca in forme di assistenzialismo di carità fondamentalmente eccetera credo che da questo punto di vista sia assolutamente centrale la connessione tra questi esperimenti di mutuo soccorso di auto organizzazione dal basso e processi di lotta molto semplicemente ovviamente questa non è una ricetta che risolve tutti i problemi ma a mio avviso diciamo se penso anche storicamente ai momenti in cui l'elemento diciamo di riproduzione dal basso della vita ha sostanzialmente favorito agevolato processi di soggettivazione politica è stato appunto nel momento in cui questo 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 aspetto qui diciamo questi esperimenti si collocavano all'interno di un processo molto più ampio di lotta e di antagonismo l'esempio che mi piace citare sempre ovviamente è quello delle black panthers e delle colazioni proletarie organizzate delle cliniche organizzate dalle black panthers ma credo diciamo che nel momento in cui i due aspetti i due momenti i due fronti della lotta vengono separati a mio avviso il rischio effettivamente di di cadere in una sorta di diciamo organizzazione semplicemente per la mera sopravvivenza ma non per la lotta sia reale invece rispetto alla questione della riproduzione sociale come questione non solo femminista io imposterei la questione in altri termini e cioè io penso che una delle caratteristiche fondamentali del nuovo movimento femminista a livello internazionale sia stato in diversi paesi il fatto che questo movimento femminista non si è collocato e non si è autopresentato come un movimento di settore o come un movimento che parla soltanto a un pezzo della società o che esprime soltanto il punto di vista di un pezzo della società al contrario penso che il movimento femminista anche in una di meno in Italia in questi anni sostanzialmente abbia portato avanti quella che personalmente definirei una politica universalistica a partire ovviamente da un punto di vista cioè a partire da un'oppressione specifica che è l'oppressione di genere di genere sessuale e quindi a partire da questa oppressione specifica è riuscita ad articolare in realtà una critica un'analisi degli strumenti analitici della società in quanto tale di cui il concetto la teoria della riproduzione sociale rappresenta appunto uno degli elementi forse più avanzati della riflessione quindi da questo punto di vista sarei assolutamente d'accordo rispetto all'allargamento dei soggetti che intervengono e lottano sul campo e rifletto anche sul campo della riproduzione sociale d'altronde questo è stato esattamente il tentativo del movimento femminista in questi anni proprio questo processo di allargamento di espansione continua di universalizzazione questo però non vuol dire perdere diciamo la caratteristica la natura femminista di questo sguardo cioè in altri termini il problema è ripensare appunto il femminismo come un punto di vista e un approccio rispetto all'analisi e alla lotta che non sia appunto l'appannaggio di un settore specifico della popolazione ma che sia invece uno strumento condiviso uno sguardo il più possibile condiviso tra tutti coloro sostanzialmente che lottano aspetta ti accendo anche là ok ma aggiungo pochissime pochissime cose a quello che ha già detto Cinzia parto dalla seconda questione appunto sull'allargamento e generalizzazione di come dire delle lotte sul terreno della riproduzione anche a me sembra come ha già detto Cinzia che questa sia stata l'intenzione del movimento femminista degli ultimi anni in Italia come altrove e che semmai quello che è stato messo cioè quello che è stato messo alla luce è che non c'è generalizzazione è possibile che non sia anche femminista cioè mi sembra anche io rovescerei un pochettino al problema cioè non si tratta tanto di individuare una questione che è stata elaborata dal femminismo e poi dire ah vabbè possiamo applicarla anche ad altro ma significa interiorizzare quella problematica come strutturante dell'analisi sociale e quindi dell'organizzazione eventuali delle lotte spero di essere stata chiara su questo punto riguardo alla questione di diciamo posta da Nicolò se questa analisi o questo queste categorie di Romano Alquati riproduzione esogena riproduzione endogena allora in parte sono d'accordo con Cinzia cioè nella misura in cui non bisogna pensare che la come dire che ci sia cioè bisogna fare un'ontologia cioè una specie di per cui esisterebbe una dimensione così della vita in qualche modo come risorsa un po' inesauribile ma mi sembra che Alquati pensi queste categorie in termini diciamo storici e dinamici cioè lui sostanzialmente dice la storia della la storia del capitalismo intesa come processo di proletarizzazione che poi lui legge in quei termini molto specifici della distruzione della capacità umana vivente possiamo leggerla anche come una storia di progressiva endogenizzazione della sfera della riproduzione cioè di progressiva sussunzione della sfera della riproduzione sociale dentro la dinamica capitalistica allora se teniamo valida questa diciamo lettura così dinamica non ontologica e fortemente storica e politica secondo me la questione rimane interessante perché mi sembra poi Alquati articola tutto questo tema ad esempio con l'analisi della tecnologia perché mi sembra che da un certo punto di vista una delle questioni di cui di fronte a cui ci mette questa situazione è forse appunto una dinamica di ulteriore endogenizzazione cioè quello che dicevo all'inizio che mi sembra un problema centrale cioè di sossunzione capitalistica di pezzi della riproduzione dentro questa crisi pandemica io sto lavorando a scuola e ad esempio lì come dire questa dinamica tra esogeno e endogeno invece permette di leggere moltissimo cioè nel momento in cui le piattaforme le grandi piattaforme Google Microsoft diventano gli interlocutori per pensare la didattica questo significa che pezzi di autonomia che dentro quel rapporto capitalistizzato finché vogliamo ma comunque un rapporto dentro cui ci sono margini di ambiguità viene invece come dire ulteriormente endogenizzato recuperato dentro la dinamica quindi non lo so secondo me può essere può essere insieme ad altre categorie ad altri spunti una come dire un impianto dentro il quale ragionare altre domande se non ci sono altre domande io direi che possiamo fermarci qui ovviamente ringrazio ancora ringraziamo ancora tantissimo Cinzia e Simona per i bellissimi interventi che sono stati tutti e due fonti di grandi stimoli penso per tutti e magari anche per questo c'è una difficoltà a fare domande diciamo così a caldo perché davvero gli spunti sono stati numerosi e ricordo appunto che il prossimo appuntamento sarà martedì prossimo sul tema dell'ecologia e ringrazio ancora le due persone che sono intervenute e alla prossima puntata di martedì prossimo grazie a voi ciao grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi